Eccoci qua a commentare questa importantissima vittoria della squadra vigiliana contro il Sassuolo, 2-1 risultato finale, con gol di Spinale o autogol dalla tribuna non è stato molto chiaro, raddoppio di Pellicori su uno stupendo assist di Nassi e un altrettanto stupendo gol di Masucci che comunque non ha portato e ha tolto nulla alla prestazione e al risultato finale del Mantua. Che dire di questa partita? Tre punti importanti in questo momento, tre punti importanti perché anche le dirette concorrenti stanno facendo altrettanto bene, era importantissimo riscattare immediatamente la sconfitta di Reggio Calabria, tre punti importanti e contro un avversario di prestigio, questo Sassuolo che si presentava a Mantua Forte di 45 punti e una seconda posta in classifica. Da sottolineare una prestazione complessivamente positiva di tutta la squadra e la difesa che ha concesso molto poco. Da sottolineare ancora una volta una prestazione superba di Locatelli, il quale da solo è in più di un'occasione, ha messo in difficoltà il reparto difensivo della squadra avversaria. E altro punto da sottolineare, a mio parere, è il gol importantissimo di quelli gol, tra l'altro molto bello, in seguito a un doppio movimento di smarcamento che ha dato in difficoltà il proprio marcatore e che ha significato le qualità di questo giocatore, qualità in quale tutta la squadra dovrà cercare di approfittarne. Che dire, è importantissimo questa vittoria perché appunto si è riscattata immediatamente una prestazione negativa e ci possiamo così preparare nel migliore dei modi per la prossima partita, per sabato prossimo.